Eccoci ancora in diretta da Piazza Maggiore a Bologna, la piazza grande di Lucio, adesso ci spostiamo da questo palcoscenico per portarci in un altro palcoscenico ancora più incredibile, ci spostiamo sul sagrato della chiesa di San Petronio. Grazie a tutti. Vive felice come incantato, come astasiato, come se abbracciasse il mondo tra le nuvole lassù. Io ti ricordo Marco Baleno acceso in cielo e nell'aria sento udire la tua voce. Fin da qua giù l'ora affattata della preghiera che viene dal bosco. Io la conosco scende dal cielo come un incanto, un'armonia. Ave Maria Ave Maria Quando il dolore canto il canto d'amore Ave Maria Ave Maria Sì Sì Ave Maria Ave Maria Ave Maria Sì Ave Maria Ave Maria Ave Maria Grazie Grazie